Ma così rispondendo molto rapidamente alla sua domanda, io penso che senz'altro due elementi abbiano contribuito a formare la scrittura, la testualità così come la intende in questi ultimi anni per me. Da una parte il lavoro del Manzoni, ovviamente Piero Manzoni, e dall'altra non meno importante, anzi probabilmente ancora più determinante, lo svelto per i piatti. Questi due capisaldi penso debbano essere ancora studiati, approfonditi, in rapporto sia alla mia scrittura in versita, in prosa, ma direi soprattutto in prosa.